Una primavera che tarda ad arrivare, vista l'ondata di freddo che in queste ore sta investendo la nostra regione. Irrompono forti venti di grecale, soprattutto sui versanti ionici e come previsto sono arrivate anche nevicate a bassa quota, imbiancata la vallata dello Stilaro e in particolar modo il borgo di Pazzano, la cui disinfestazione del territorio a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata rinviata. La protezione civile ha raccomandato massima prudenza vista le criticità idrogeologiche e temporali.